Oh ragazzuoli, ciao a tutti, buongiorno e mi sembrava doveroso dedicare un piccolo video alle parole di Rocchi, il designatore degli arbitri, perché come sappiamo ci sono tanti incontri durante l'anno per spiegare tutte le varie dinamiche, tutte queste varie pugnette qui come ad esempio nel caso di Juve Salernitana dove sì era regolare ma nel dubbio non ha sbagliato nessuno, ecco cioè nel senso incontri appositi per di fatto prenderti per il culo di persona perché evidentemente le partite non bastano, alle volte non sono sufficienti e oggi bene o male siamo sulla falsariga di queste robe qui perché ovviamente da un mesettino, un mesettino e mezzo da questa parte il tema principale è se ammonire o meno quei giocatori che sono vittime di episodi razzisti dove in un primo momento comunque insomma beh se effettivamente provochi il giallo comunque tutto sommato ci sta che te lo becchi nonostante effettivamente non siano stati particolarmente cordiali nei tuoi confronti poi dopo che è stata particolarmente criticata questa cosa della munizione si è passati al beh no se effettivamente uno magari reagisce in una determinata maniera perché vittima di cori razzisti giustamente bisogna passare oltre non bisogna ammonire cosa che da un certo punto di vista è ben più che condivisibile perché dopo che mi insultano magari per la mia origine o per quello che è il mio colore della pelle magari faccio gol e mi viene anche istintivamente da mandare a cagare insomma in tutto questo mi ammonisce anche solo che evidentemente ancora siamo in una situazione abbastanza di limbo ecco mi limito a dire solamente questo perché ovviamente i due episodi che hanno attratto più clamore mediatico sono quelli di Lukaku contro la Juventus che sappiamo bene o male come è andata a finire Lukaku inizialmente ammonito poi con la grazia di gravina ha comunque avuto la possibilità di giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia e quello di Vlaovic contro l'Atalanta e ieri ad onor del vero si viene a scoprire che comunque i due episodi sono differenti perché voglio dire no sia mai banalmente potrebbe no anche venire da dire è per forza un indossava la maglia dell'Inter l'altro la maglia della Juventus ma questa è una roba frivola e anche quasi un'illazione da un certo punto di vista andiamo un pochino di più nel dettaglio delle parole di Rocchi perché giustamente nel momento in cui secondo lui i due episodi sono differenti bisogna anche sapere in un qualche modo il perché giustamente no converrete con me in questo le indicazioni che abbiamo dato agli arbitri e che un calciatore oggetto di razzismo non venga ammonito quindi di fatto in futuro sappiamo che il giocatore non verrà ammonito Massa in occasione di Juventus Inter non sapeva del pregresso del gesto che Lukaku aveva già fatto per esultare e per questo il giallo era giusto pensava che fosse provocatorio ma non lo era abbiamo dato l'indicazione di fermare la gara per per dare un segnale chiaro contro il razzismo la nostra categoria lo combatte e non siamo incoerenti nessuno lo vuole mettere in dubbio però appunto da quello che si evince Lukaku secondo il punto di vista di Rocchi e magari anche di Massa è stato ammonito per l'esultanza poi però magari vedi qualche replay e noti che dice diverse volte ai tifosi della Juventus di Star City quindi insomma comunque accende in un qualche modo ovviamente la discussione anche con i giocatori con i tifosi della Juventus e magari anche a ragione perché insomma lo insultano per il colore della pelle magari gli fanno gli ululati nel momento in cui magari te lo mette nel culo al 92esimo ci può anche stare no che dica e adesso state zitti adesso non parlate più o anche banalmente dovete stare zitti dovete stare zitti cosa che fa non è che si limita a fare la classica esultanza e poi torna a metà campo no comunque batti becca anche con i tifosi però giustamente se si vuole dire che questa è una replica non è che se si vuole dire è una replica agli episodi razzisti ci sta che comunque l'ammunizione decidi di toglierla però poi non mi puoi cascare dicendo nel caso di Vlaovic è stato fatto di tutto perché non fosse oggetto di razzismo eppure con tentativi no abbastanza nulli vedendo come tutto quanto si è evoluto ma se Doveri lo rincorre e gli dice di non andare sotto la curva dell'Atalanta lui non lo deve fare altrimenti diventi un provocatore quindi alla fine di tutto è stato Vlaovic il provocatore della situazione che si è creata nello stadio dell'Atalanta dove prima che segnasse qualche minuto prima già per diversi minuti gli hanno intonato il famoso coro dove addirittura sono stati da spati ben nove tifosi dell'Atalanta e considerando che la curva Pisani è composta da 9.000 posti è veramente il famoso uno su mille che ce la fa a venire da spato siamo bene o male ad una roba di questo genere dalla ragione che Vlaovic ha totalmente altrimenti passi dal torto abbiamo capito il problema e lo interpreteremo nel modo giusto noi faremo di tutto ma i calciatori devono darci una mano perché se diventi provocatore diventa un problema perché non c'è solo la serie A ma anche le categorie minori noi dobbiamo far sì che un episodio ci dà ragione che ci dà non dobbiamo far sì che un episodio che ci dà ragione diventi un torto chiediamo i giocatori che se che se vedono l'arbitro che fa di tutto per dare un supporto loro ci diano una mano il più sarebbe anche andare a rivedere effettivamente cosa fa Vlaovic nel momento in cui segna perché ok a primo impatto mette la mano davanti al naso ovviamente per dire state ziti però io non ho visto un Vlaovic andare particolarmente sotto la curva ho visto un Vlaovic andare con tutti gli altri compagni ad esultare però in questo caso è Vlaovic che passa dalla parte del provocatore e in questo caso ovviamente l'ammunizione giusta perché in un qualche modo ha fatto sottintendere pure questa roba qui e che quindi banalmente viene anche da intuire ma magari in un qualche modo mi potrei sbagliare che in sto che in sto caso se cazzo che l'ammunizione a Vlaovic verrà tolta e a me sta roba sembra anche un pochettino ridicola se dobbiamo dire un pochino le cose come sono perché ok sono due casi diversi a me onestamente mi sembrano proprio con sto par di coglioni due casi diversi perché in un qualche modo tutte e due in maniera legittima sia Lukaku che Vlaovic hanno reagito a degli episodi di razzismo e non me li puoi trattare come se fossero due cose diverse dove in un caso lasci solamente intendere che lui esulta sempre così quando si vede palesemente anche dalle immagini che in realtà dice alla curva di star zitta o magari al diretto interessato con cui batti beccava questo non lo so però è una cosa che fa e si vede chiaramente dei replay e non puoi ometterla soprattutto se poi dici beh vabbè però vlaovic poi passa dalla parte del provocatore perché insomma e era addirittura a 20 metri dalla curva considerando che ha segnato di fatto sotto quella porta e a me sta roba sembrano un pochino ridicole sembrano un pochino ridicole soprattutto quando due episodi di razzismo li dividi e no però sono due dinamiche un pochino diverse no mi sembra stoppar di coglioni un pochino diverso probabilmente diversa la maglia che indossavano quello probabilmente sì e che questo di conseguenza possa portare a delle cause un pochino differenti come inevitabilmente e anche forse involontariamente lo stesso Rocky ha sottolineato però questo è un pensiero mio addirittura divento un provocatore ma va a scorreggiare sulla farina va là che probabilmente viene fuori una roba più carina che questa roba detta ma d'altronde onestamente tutto quanto stupisce veramente fino a una certa e non ce lo possiamo neanche poi troppo negare evidentemente il modus operandi adottato bene o male è quello sulla falsa riga di tutta la stagione né più né meno un trattamento un pochino differente e sempre più evidente tra le altre cose e beccatevi pure la rima detto questo ragazzuoli nulla dai nulla va bene così va bene così io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao ciao ciao